Con il ritorno a scuola, la Biblioteca Comunale di Bustar Sizi, in collaborazione con Nomo Sedizioni e Simabè, Laboratori del Fare, propone tre appuntamenti creativi gratuiti per bambini dai 7 ai 10 anni. Obiettivo stimolare la curiosità e il pensiero dei più piccoli, partendo dai libri, il tutto nell'ambito del progetto Reading Busto Fondazione Cariplo. I laboratori, con prenotazione obbligatoria, si svolgeranno alla sezione ragazzi della Biblioteca di Via Marliana alle 17. Ecco giorni e titoli. Martedì 12 settembre e tu sai chiedere scusa? Giovedì 14 alla scoperta dei tesori del faraone bambino Tutankhamon e venerdì 15 giù nel blu.